Musica Brun Editore presenta Super Core Training Scopri le tecniche e gli esercizi migliori per scolpire il tuo fisico e aumentare la tua resistenza Di Simone Casagrande Introduzione Dopo vent'anni trascorsi a preparare atleti, sento il desiderio di aiutare quei giocatori, giocatrici e soprattutto semplici appassionati di fitness a ritrovare quella forma tanto desiderata attraverso l'allenamento della parte più importante del nostro corpo, il core. Il core non è altro che l'insieme dei muscoli che formano la parte centrale del nostro corpo. Durante la mia settimana super impegnata, trovo comunque il tempo per tre ore di allenamento rivolte alla mia persona. Gli esercizi per il core fanno sempre parte del mio programma, anche perché avendo giocato fino a 36 anni, ho provato su me stesso i benefici che questi movimenti apportano al fisico. Gli esercizi che troverai in questo corso sono fondamentali per tutte le discipline sportive, basket, calcio, nuoto, ciclismo, volley, eccetera, ma soprattutto per quelle persone che si allenano solo per il piacere di stare in forma. Quando parliamo di core training, infatti, parliamo di movimento e non esiste nessuna azione dinamica che non passi per il nostro centro. Anche semplici azioni quotidiane richiedono l'intervento del core, come lavare una macchina, sollevare un bimbo, passare all'aspirapolver, eccetera. Ed è proprio per questo che è importante renderlo funzionale. Personalmente ho lavorato e sto lavorando con tanti atleti. Alcuni di loro giocano in serie A e per me è una soddisfazione enorme aver contribuito, nel mio piccolo, alla loro scalata sportiva. Gli esercizi di core stability hanno sempre fatto parte dell'allenamento giornaliero dei miei ragazzi. E proprio grazie al lavoro sul nucleo centrale del corpo, questi atleti hanno migliorato la loro velocità, potenza, resistenza e flessibilità. Ma attenzione, perché le proposte che troverai in questo corso sono perfette per tutti gli sport, per uomini e donne e soprattutto perché si allena da solo, con l'unico scopo di migliorare il proprio fisico. Allenare questa parte del tuo fisico ti permetterà di praticare più a lungo lo sport che preferisci. Come tutte le cose che danno benefici, anche allenare il core non è una passeggiata. Gli esercizi sono impegnativi e ci sarà da sudare. Ma il risultato che otterrai ti ripagherà alla grande di tutti gli sforzi fatti. Schiena protetta, addome scolpito, più velocità, più forza, più potenza, più resistenza e più flessibilità. Non mi sembra cosa da poco per chi vuole migliorare le proprie prestazioni sportive. Fare addominali e lombari per tantissime ripetizioni, oppure correre, saltare, sprintare, lanciare, senza passare attraverso l'allenamento del core, non è un'esercitazione completa. Questo corso ti aiuterà e guiderà attraverso un percorso graduale, verso un fisico invidiabile e i benefici saranno incredibili. Al termine del corso sarai in grado di far lavorare il tuo core in maniera perfetta e gli esercizi svolti ti permetteranno di avere un fisico scolpito e definito fuori, forte e potente dentro. Anche quei fastidiosi dolori lombari spariranno la svelta perché un core forte protegge il rachide e ti permette di svolgere i tuoi allenamenti preferiti in tutta tranquillità. Allora, non perdere tempo. Buon apprendimento!